La nostra estemporanea filmica, NEF È stata una mia misa Ma allora forse anche là è così, no, là c'ha ritornato Vabbè, dai Senza intro One, two, three, four 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 Un po' stranissimo Un po' stranissimo E' interessante Sembra un po' coso Erbeto Pasco Si Quello stile Di verbo E' martedì Ok, è presto ancora Si, mano a mano No, sempre Otto minuti Eh, non è più come quando eravamo giovani Che suonavamo tre, quattro ore Cinque ore Adesso due ore Avevamo due chitarre E' vero Sia per te Sia per te Che per me E per tutti E poi Marco Aveva sempre Spesso un altro solista Vabbè Ma quando siamo io e Paolo Va tutto bene Micia Tremendale Stavo mangiando la giacca No, vengo qua Aspetta No, no Ma prima va No, no Aspetta Perché tanto dobbiamo andare giù di là Aspetta qua Vengo qua Ok Ho un po' di problemi fisici Un po' tanti C'ho una Un'occlusione Della Arteria Femorale C'è proprio Una Una palla così nera Che chiude La via al sangue Ma che si può fare? Levarla Vanno con le somme Ok Poi c'ho una macchia Su questo polmone E questo mi preoccupa Pareffio Che amare Una macchia grossa Così Le sigarette Poi C'avevo l'epatite Analyse del sangue C'erano dei valori Un po' alti Che però Non sarebbero dovuti Risultare così alti Allora le ho rifatte Ma ora il 16 Lo vado a prendere Vediamo un po' Dovrebbe essere tutto a posto Perché Sto bene Prima mi addormentavo Vediamo Vediamo un po' 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 Ah, c'è sti gambe! Guarda io davanti perché sono vecchi. Il gioco è stato un po' di QTSS e un po' di QTSS. Grazie a tutti. 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 A noi perché ci piace lo show in Italia? Perché in Italia se tu vai in giro a sentire la nostra musica, quella popolare, è molto simile, tipo le tarantelle, le canzoni strappacuore dei napoletani, ma anche dei piemontesi o dei milanesi, capito? Sono delle canzoni bellissime, popolari, suonate, accompagnate che so, dal mandolino o dalla fisarmonica, che ecco, la fisarmonica è uno strumento per eccellenza che si suona in Italia. E viene tutto dal popolo, un po' dalla sofferenza del popolo che appunto sono stretto a lavorare per sopravvivere e un po' anche dalla cultura che comunque c'è sempre stata in Italia della musica. Gli unici che non avevano una musica, che si può chiamare musica come la intendiamo, erano i romani. I romani, dei romani anche archeologicamente, per quanto riguarda la musica non è stato trovato, cioè è stato trovato pochissimo. E tutto quello che è stato trovato più o meno riguarda la guerra. La guerra? Sì, perché per esempio quando i grossi battaglioni attaccavano, prima del grosso battaglione entravano i musicisti con le trombe, i tromboni, i corni e le percussioni dietro, tamburi, i grancassi, avanzavano facendo grandissimo rumore, capito? Che era una cosa che un po' intimoriva il nemico. Sì, sì. Perché poi dietro, dietro il gran rumore c'era l'esercito vero e proprio. Però non è mai stato trovato niente di scritto dai romani, che so, una canzone, uno stornello o qualcosa del genere. Cosa che invece per esempio in Grecia è successo tantissimo. In Spagna anche, invece fra i romani, niente. Erano servaggi e basta. Io ho sempre ribadito nello scioro, perché a noi ci fanno le critiche che noi lo scioro non lo sappiamo fare. Come l'ha fatto, no? E io penso, sì, è vero, ma perché? Perché siamo italiani, non siamo brasiliani. Che è una cosa che ho sempre sostenuto. Tu che sei italiano non farai mai lo scioro come lo fanno i brasiliani. Perché è una musica loro. Anche se su questa cosa c'è da discutere. Perché lo scioro nasce dalla musica europea. Che era stata portata in Brasile, nei salotti dei borghesi. Quando si incontravano, suonavano il pianoforte, il violino, il clavimento. Che suonavano i walser di Chopin, Strauss, le mazurche, le polche per ballare. Che era la musica che veniva dall'Europa. Al cui poi è stato aggiunto del ritmo presidio. A me chi mi critica dicendo, appunto, te non sarai mai uno scioro e se mi fanno così dire, vabbè, sti cazzi, capito? Non lo sarò mai perché sono italiano. Perché io do la mia interpretazione dello scioro. Che va bene lo stesso. Non è che mi puoi dire, ah ma no, ma non va bene, devi fare così per forza. Perché no, perché sennò poi alla fine non è più musica. Puoi diventare brasiliano e fare bene lo scioro se non lo fanno in brasiliano. No, non è così. Perché tanto non riuscirei mai a farlo. Perché non sei brasiliano. Facevo un'altra vita. Facevo una vita di strada, stavo sempre fuori. Avevo un sacco di soldi. Andavo, spendevano, entravano. Facevano i maceplici. Facevo i traffici. Non c'erano nemmeno il tempo materiale di suonare. Mi pento solo di aver fatto una cazzata. Cioè la cazzata di non essermi comprato un flauto come si deve. Anche se mi ricordo che ai tempi ci avevo pensato. Di comprarmi uno strumento proprio di quelli perli costi. Da 10.000, 20.000 euro. Per il resto è stato tutta vita da strada. E poi qualche anno in galera. Questo ultimo periodo in prigione per esempio davo lezioni di musica a un ragazzo che stava con me. Che anche lui era appassionato e voleva imparare. Allora mi sono messo lì a insegnarvi un po' di teoria. Un po' di solfeggio, tutte queste cose qua. Vabbè, ho pagato tutto quello che c'avevo da pagare. Sì, mi sono divertito parecchio. Poi ho detto che ho sempre avuto un sacco di soldi e comprato quello che volevo. Però, come si dice, il crimine non paga, no? Ma più che altro quando sei un piccolo criminale. Quando sei un grande criminale ci sono altre soddisfazioni. Sempre se si possono chiamare soddisfazioni. Ci sono più responsabilità. Ci sono tante incognite. Non ti puoi permettere di essere buono e essere un criminale. Io, siccome sono più buono, a parte che non penso di essere mai stato un criminale. Non ho mai fatto del male a nessuno. Nemmeno se c'era chi mi fregava. Non sono mai andato a cercare quello che mi doveva dare i soldi. Capito, no? Chi se ne frega. Vabbè, è andata così. Io ho perso. Stop. Magari la volta dopo ci stavo più attento. Perché poi impari, no? Magari la volta dopo ci stavo più attento. No. Do you know? tra bella a nina no o a nina da spalmare sulla o la caixa di pandora ma marco dove finisce c'è s'è dormita Grazie a tutti 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 Sono qui Grazie a tutti Grazie a tutti Per cui Grazie a tutti 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 Grazie a tutti